Maurizio Cerbo, Rifondazione Comunista, si schiera al fianco della soprintendenza per quanto riguarda le ultime decisioni. Avete detto in conferenza, invitiamo i cittadini di Pescara ad essere al fianco della soprintendenza. Perché? Giudichiamo positivo che la soprintendenza dal ponte del cielo, che io ho ribattizzato ponte del cesso, considerato la qualità delle acque e la forma dell'opera, alla questione degli abusi ed inizi sulla spiaggia realizzati da De Cecco e sui quali la Regione ha cercato di fare una norma di sanatoria, l'intervento della soprintendenza è stato un fatto molto positivo. Era un tentativo di sanatoria che infatti De Cecco ha cercato di usare in Consiglio di Stato, non gli ha funzionato. Però questa sveltina fatta, noi crediamo che il Consiglio regionale debba blocarla e che D'Alfonso si debba vergognare per averla fatta approvare, tra l'altro la chetichella senza avere neanche la dignità di dire che faceva questa sveltina e di rivendicarla. Ma a noi questo non ci stupisce perché conosciamo il personaggio ed è per questo che non lo abbiamo sostenuto.